Il più cordiale e buon martedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Si celebra oggi 20 ottobre la giornata mondiale delle osteoporosi. La ricorrenza serve ad aumentare la consapevolezza dell'osteoporosi e dei suoi pericoli. Questa patologia colpisce oltre la metà della popolazione del nostro pianeta, dai 50 anni in su, per lo più donne. L'invecchiamento delle ossa è un processo prevenibile e la campagna per la giornata mondiale delle osteoporosi aiuta le persone a ricordare la malattia. Dal lunedì 26 ottobre a martedì 1 dicembre la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli ospita Luce 1, la mostra d'arte fotografica di Assunta Salle. L'esposizione è a cura di Carla Travierzo, prodotta da Black Tarantella e promossa dall'assessorata alla cultura del comune di Napoli. Sotto il patronato della Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee. L'iniziativa nasce da un'idea di Andrea Aragosa. Il Mitreo Film Festival, la rassegna cinematografica guidata da Paola Mattucci Ventriglia, compie quest'anno 20 anni. Fino al 31 ottobre a Santa Maria Capovetere due intere settimane ricche di eventi, incontri con sceneggiatori, scrittori e produttori cinematografici. L'evento si concluderà con la cerimonia di premiazione per i giovani filmmakers italiani che si sono iscritti al concorso. In arrivo siamo nati per soffriggere il nuovo libro di Gino Riviecio, per sorridere e riflettere tra cucina e filosofia. In libreria dal 22 ottobre prossimo, edizioni colonnese. La Omniarte Caserta ospita il 24 al 25 ottobre, in corso giornone 44, Palazzo Crispino, lo stage di danza classica e contemporanea di Oliviero Bifulco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it Grazie a tutti.